Torna giovedì 9 aprile a Palazzo Rascaris l'appuntamento annuale con Hashtag APA 140, evento organizzato dal Consiglio regionale sui temi del digitale, della partecipazione, dell'uso delle piattaforme social nelle pubbliche amministrazioni. Hashtag APA 140 2015 chiuderà la prima fase del Piemonte Visual Contest, il Mappaton, la sfida lanciata a comunità di sviluppatori, data analysts, designers, fotografi e ricercatori per partecipare alla mappatura del Piemonte con OpenStreetMap.